Le notti d'estate si prestano, per definizione, ad essere trascorse col naso all'insù, ma la sera del 27 luglio riserva un appuntamento davvero imperdibile, quello con le crisi totali di luna più lunghe del secolo. La fase di totalità, chiamata di massimo scuolamento, durerà infatti un'ora e 43 minuti, poco meno del massimo teorico possibile di un'ora e 47 minuti. L'intero fenomeno, dall'inizio dell'oscuramento al ritorno del disco lunare alla sua luminosità completa, durerà invece quasi quattro ore. Il fenomeno sarà visibile al massimo splendore nell'emisfero orientale e in Italia potremmo ammirarlo quasi nella sua interezza. Inizierà pochi minuti prima delle 21, quando la luna sorgerà a sud-est già nel cono d'ombra della Terra, che si troverà posizionata esattamente tra il Sole e il nostro satellite. La fase di totalità sarà tra le 21 e 30 e le 23 e 13, con il momento di massimo scuolamento alle 22 e 22. Per la fine dell'eclissi occorrerà rimanere svegli fino alle 1 e 30 del mattino del 28 luglio. Nel clou dell'evento la luna apparirà rossa per il modo in cui la luce solare viene rifratta quando attraversa l'atmosfera terrestre. Le lunghezze d'onda più corte, quelle del blu e del viola, si diffondono più di quelle più lunghe, rosso-arancio. Le prime si sparpagliano in tutte le direzioni e sono responsabili dell'apparente colore blu del cielo, mentre le seconde vengono riflesse dalla Terra alla superficie lunare, che appare quindi illuminata da una luce sempre indiretta, che ha però già attraversato l'atmosfera terrestre e che, perciò, appare rossastra. Durante l'eclissi del 27 luglio, la luna si troverà in apogeo, ossia la massima distanza della Terra, poco più di 400.000 km. Come ricorda il sito dell'INAF, in questo tratto dell'orbita i corpi si muovono più lentamente. Il moto è descritto dalla seconda legge di Keplero, perciò si prolunga il tempo di transito nel cono d'ombra proiettato dalla Terra. Inoltre, in questa occasione, l'allineamento tra Sole, Terra e Luna sarà praticamente perfetto. La Luna passerà al centro del cono d'ombra creato dalla Terra e non a limitare di esso. Anche per questa ragione il transito durerà più a lungo. Infine, a luglio, la Terra raggiunge il punto di massima distanza dal Sole, che di conseguenza appare più piccolo nella volta celeste. Perciò il nostro pianeta proietta un'ombra più lunga nella quale la Luna si muove più lentamente. Ecco perché le eclissi più lunghe tendono a verificarsi quando nell'emisfero settentrionale estate. L'eclissi di Luna si può osservare e fotografare a occhio nudo, senza i rischi che comportano eclissi di Sole. Il sito dell'INAF ha predisposto su Tumblr una pagina per condividere le foto del fenomeno, anche quelle da cellulare e non professionistiche. Ad accompagnare nelle inquadrature questa lunga eclissi ci saranno anche Venere, Giove, Saturno e Marte. Quest'ultimo sarà particolarmente ben visibile. Dopo le 21, poco al di sotto della Luna, in eclissi. Grazie. Grazie.